Crisi del Trecento. Anzitutto stavolta facciamo una specie di sintesi iniziale, cioè introduciamo il discorso con una mappa concettuale sul Trecento, cioè andiamo già a anticipare quelli che sono gli argomenti principali che riguardano questa crisi del Trecento. Alcuni li approfondiremo con le prossime lezioni, per esempio proprio i primi due che si trovano qua nella mappa concettuale in alto a sinistra, cioè la crisi del papato e la crisi dell'impero, li affronteremo in una lezione a parte che si intitolerà appunto crisi del papato nel Trecento oppure cattività vignonese e crisi dell'impero nel Trecento. Quindi innanzitutto si tratta di crisi istituzionale. Poi però c'è la crisi economica. La crisi economica è dovuta alla pressione sulla terra, quindi sull'agricoltura, che aumenta. Tra undicesimo e quattordicesimo secolo la popolazione europea è quasi raddoppiata. La pressione sull'agricoltura, estesa a tutte le superfici disponibili, raggiunge i livelli massimi, una specie di saturazione. L'ulteriore crescita e un peggioramento climatico rompono l'equilibrio. Seguono carestie, aumento dei prezzi e fame. Le carestie, quindi, che facevano diminuire radicalmente il raccolto in altre fasi della storia, con un numero di abitanti inferiore, potevano essere gestite. Invece noi abbiamo assistito a una sorta di esplosione demografica in tutti questi primi secoli dopo l'anno 1000, per cui è aumentato a dismisura il numero degli abitanti. E questo, quindi, ha reso drammatiche le carestie, come vedremo soprattutto tra il 1315 e il 1317. Conseguente alle carestie è l'aumento dei prezzi, poiché proprio questi generi alimentari di prima necessità, per esempio, si trovavano sul mercato a un prezzo raddoppiato, triplicato, moltiplicato, insomma, rispetto al passato. E la fame, la conseguente fame, perché non tutti possono permettersi di acquistare questi prodotti basilari, perché non ne hanno i mezzi, alcuni, molti. Conseguenze sociali sono l'impoverimento di gran parte del mondo, soprattutto del mondo contadino, specialmente tra gli affittuari. E quindi parleremo, soprattutto nella seconda parte del Cinquecento, delle rivolte dei contadini. Parleremo di rivolte dei contadini in Francia, le cosiddette Jacquerie, e in Inghilterra. Tra l'altro, era oppressivo, opprimente, volevo dire, il fiscalismo sia dello Stato sia della Chiesa. E quindi è chiaro che i contadini provano a ribellarsi a tutto questo, ma in genere vanno incontro a delle tremende repressioni. E questa quindi è la crisi economica, che porta con sé carestie, è causata, direi, dalle carestie. E anche, vedremo il crollo di alcuni importanti banchieri, quindi prestatori, e quindi comunque anche dell'artigianato, che era così fiorente, che segna un po' una battuta d'arresto, o quantomeno una certa flessione, in questo secolo. E' una crisi, quindi, anche del commercio. Quel commercio, che era stato così fiorente nel 200, incontra più difficoltà, in questo periodo del 300. Ecco, di fronte a questa crisi abbiamo la reazione della paura o delle rivolte. Abbiamo già parlato delle rivolte dei contadini, ad esempio. Ma dobbiamo anche parlare della crisi a livello demografico, che è dovuta soprattutto a fenomeni quali l'epidemia, in particolar modo la peste nera, che ha decimato la popolazione, o quantomeno. Addirittura la peste tra il 1947 e il 50, tra il 1347 e il 1350, si è portata via un terzo della popolazione europea. E quindi, quell'andamento, quella crescita demografica, continua, costante, quasi esponenziale, dei primi secoli dopo il 1000, segna una battuta d'arresto, viene bruscamente interrotta da questa pestilenza, e abbiamo un abbattimento anche del numero degli abitanti, insomma, della nostra Europa. Di fronte a questi fenomeni, la gente reagisce spesso in un modo abbastanza superstizioso o istintivo. Superstizioso, quindi attraverso le processioni dei flagellanti, perché la peste viene interpretata come una punizione di Dio, e queste processioni intenderebbero placare l'ira di Dio. Oppure la caccia agli ebrei, perché, in questa situazione così drammatica, si vuole trovare un capro espiatorio e viene trovato, appunto, negli ebrei. E, diciamo, delle persecuzioni degli ebrei, che non erano state così frequenti nei secoli precedenti, lo diventano molto di più in questo 300. Terminata la nostra mappa concettuale, andiamo un pochettino ad approfondire i singoli argomenti riguardanti la crisi del 300. Anzitutto, dobbiamo dire che la fame fu veramente il primo dei fenomeni che attraversò l'Europa, prima ancora della peste, infatti, soprattutto i contadini, la gente povera, fu decimata dalla fame nei primi decenni del 1300. Abbiamo visto già quali potrebbero essere state le motivazioni, un eccessivo aumento della popolazione rispetto alle risorse disponibili, l'impossibilità di coltivare nuovi terreni, dal momento che verso la fine del 200 si arriva alla saturazione e quindi a, diciamo, a sfruttare, insomma, i terreni, si è arrivati a sfruttare tutti i terreni disponibili. Sapete poi, oltretutto, che i terreni hanno anche bisogno, a certe volte, di un riposo, c'è di un periodo, di un anno, magari, di riposo per poter continuare a produrre gli anni successivi e quindi si è arrivati davvero ad un momento di rottura dell'equilibrio che si era verificato, invece, nei secoli precedenti. Addirittura si prova, quindi, a coltivare terreni particolarmente difficili e complicati come le montagne e le zone paludose. Diventa importante anche produrre là, anche coltivare là, pertanto. Si abbandonano i villaggi, però è chiaro che la diminuzione demografica porterà con sé anche conseguenze complicate con riguardo proprio alla produzione. Abbiamo, pertanto, in questo periodo un aumento della denutrizione, nel senso che la popolazione, soprattutto quella dei ceti umili, si nutriva quasi esclusivamente di cereali e dal momento che i cereali, per via della carestia, vennero quasi a mancare quasi del tutto e poi i prezzi si alzarono, come stavamo spiegando, è chiaro che questo portò a un grave peggioramento della condizione delle classi più umili. In realtà c'erano state carestie anche nei secoli precedenti, però in zone piuttosto limitate. Invece adesso la carestia, soprattutto dopo il XV, già c'erano state delle avvisaglie tra il 1309 e il 1315. Dopo il XV la carestia si manifesta, si può dire, in quasi tutta Europa, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, Piemonte, Lombardia, Emilia, insomma, che già avevano avuto delle carestie negli anni precedenti. E poi in tutta Europa, veramente. Quindi c'è tutto un insieme di situazioni e di condizioni e in particolar modo la temperatura diminuisce notevolmente. Secondo alcuni, alcuni studiosi, sarebbe stato il passaggio di meteoriti a produrre quello che è stato definito una piccola era glaciale, che del resto interesserà non solo questo secolo, ma anche i secoli successivi, fino però ai nostri tempi, in cui, come ben sappiamo, la tendenza si è invertita e stiamo assistendo, ahimè, purtroppo a una fase di riscaldamento globale altrettanto preoccupante, se non di più ancora. Quindi inverni rigidi e prolungati, estati piovose, alluvioni, grandinate. Questa volta però, come stavamo spiegando, non causate in genere ad un'azione antropica, ad una causa antropica, cioè all'agire dell'uomo, come sta avvenendo invece per noi in questi ultimi tempi, ma probabilmente per una causa dovuta che non dipende dall'uomo. Ancora delle carestie ci furono tra il 40 e il 50. Le conseguenze di questa crisi economica arrivarono anche nelle città. Per esempio ci fu una diminuzione della produzione, del commercio, e quindi diciamo che cercarono, coloro che governavano le città, di porre rimedio a questa situazione. Per esempio si svalutarono delle monete e allora certe città cercarono di battere la loro moneta una loro moneta chiedendo il permesso, ad esempio, all'imperatore. È il caso, per esempio, di Venezia che riesce a sostituire la propria moneta a quella bizantina e quindi da questa fase in poi ci sarà il ducato veneziano d'oro che sarà molto importante nei commerci dell'epoca. Dobbiamo anche, infatti, spiegare una cosa importantissima che la parola crisi, etimologicamente parlando, porta con sé anche un'accezione in un certo senso relativamente positiva perché la crisi è comunque sempre un periodo in cui è vero si mettono in discussione cose scontate del periodo precedente ma questo potrebbe anche essere positivo per certi versi perché si tratta di una svolta nella storia, si creano i presupposti per un cambiamento che sotto certi aspetti potrebbe anche essere positivo. Un altro aspetto veramente tremendo soprattutto per certi borghesi è proprio l'insolvenza di alcuni sovrani che si erano indebitati, che avevano chiesto dei prestiti e che poi dopo non pagarono chi aveva prestato loro del denaro e il caso in particolar modo del re Edoardo III d'Inghilterra sconfitto nelle prime fasi della guerra dei cent'anni di cui parleremo in uno dei prossimi incontri fa fallire diversi prestatori di moneta tra cui proprio i bardi e peruzzi e gli acciaioli quindi famose famiglie italiane soprattutto toscane che si erano arricchite molto prestando anche addirittura ai sovrani come il caso appunto di Edoardo III d'Inghilterra fallirono e anche questo portò indubbiamente a una grave crisi economica e finanziaria nell'Italia dell'epoca adesso andiamo a parlare della peste nera sicuramente verso la metà del 1300 avvenne qualcosa che aggravolte realmente la situazione probabilmente partendo dalla Cina e poi in particolar modo a causa di uno scontro che c'era stato nel Mar Nero ancora una volta torna la Crimea l'attuale Ucraina eccetera come un punto nevralgico insomma purtroppo tragico e drammatico in certe fasi della storia come abbiamo visto anche la guerra di Crimea pur con dei risvolti positivi per Cavour e per i Savoia lo stiamo vivendo adesso con la guerra dell'Ucraina e anche nel 1347 ci furono degli scontri a questi scontri parteciparono dei genovesi e pare che addirittura assediando una città visto che già si era diffusa una pestilenza chi stava assediando questa città decise di lanciare all'interno della città assediata dei cadaveri di morti e di peste e questo ovviamente fu causò la morte di molti di quelli di quelle popolazioni assediate ma purtroppo a causa poi delle navi che rientrarono verso ad esempio proprio verso l'Italia verso i porti dell'Italia oppure anche della Francia pensate a Marsiglia questa pandemia si diffuse anche nel resto dell'Europa oppure a Messina Messina Genova Marsiglia e quindi dal tirreno poi si sparse questa epidemia ovunque poi questa pestilenza sembrò per un attimo avere una battuta d'arresto durante l'inverno tra il 47 e il 48 ma poi nella primavera successiva cioè nella primavera del 48 la diffusione divenne veramente esponenziale e quindi si diffuse la pestilenza nelle città d'Europa noi lo sappiamo perché abbiamo letto insieme il Decameron di Boccaccio e Boccaccio il proemio del suo Decameron descrive in maniera anche piuttosto dettagliata quali furono le conseguenze della diffusione della peste all'interno della città di Firenze per ben tre anni la pandemia come abbiamo spiegato prima addirittura arrivò quasi a dimezzare si può dire o almeno diciamo a far morire un terzo della popolazione europea dell'epoca fino all'estate del 1350 compresa si diffusero tra l'altro lo potete vedere anche in queste diapositive raffigurazioni che del resto erano presenti anche prima del cosiddetto trionfo della morte si trattava ovviamente lo sappiamo anche noi che abbiamo letto ad esempio Petrarca si trattava di una tematica presente non solo nell'arte ma anche nella letteratura da parecchio tempo ma adesso sembrava proprio che si stesse realizzando questo trionfo della morte tornano in auge quelle profezie che addirittura ritenevano imminente la fine del mondo ecco altri studi invece del 33% parlano di una mortalità media del 25% ma si raggiunsero come vi ho spiegato prima in Germania in Francia in Italia percentuali del 30-35% e oltre infatti ahimè purtroppo lo sappiamo noi che abbiamo letto anche i promessi sposi di Manzoni purtroppo la peste era praticamente una malattia dalla quale era difficile difendersi proteggersi prima di tutto e poi soprattutto una volta contratta questa malattia era anche difficile salvarsi ecco solo una piccola percentuale della popolazione magari non so il 25% di chi si ammalava riusciva poi a salvarsi a non perire era letale questo tipo di malattia per le conoscenze mediche dell'epoca non c'erano rimedi di fatto sufficienti una volta che uno contraeva la malattia la pandemia terminò la fase acuta tra il 50 e il 51 ma rimase allo stato endemico e si ripresentò poi a intervalli quasi regolari nei decenni e nei secoli successivi non però con la recrudescenza così tremenda veramente della peste nera del 1348 pur essendoci dei momenti in cui famoso per esempio la peste di San Carlo a metà del 500 circa e soprattutto la peste del 1629 e 30 che abbiamo conosciuto appunto come vi stavo spiegando con la lettura dei promessi sposi quella pestilenza lì quella che terminò proprio nel 1630 fu praticamente l'ultima della storia europea anche se ci fu poi la peste a Londra del 1600 quella narrata dal Daniel Defoe ma diciamo che ormai la come dire grazie anche ad un aumento dell'igiene perché diciamo che è direttamente proporzionale alla mancanza di gene la diffusione della peste la peste in Europa incominciò a diminuire decisamente fino a scomparire si può dire del tutto facendo i dovuti scongiuri anche se comunque può essere sostituita anche da altre pandemie a quanto pare da quello che noi stiamo verificando e sperimentando purtroppo noi tutti da un po' di anni a questa parte sulla nostra pelle o sulla pelle delle persone che magari conosciamo ecco chiaro che questa pestilenza come abbiamo già spiegato nella nostra mappa concettuale portò ad una serie di reazioni spesso istintive irrazionali è il caso per esempio dicevamo di queste superstizioni ecco che aumentarono tantissimo in quel periodo per esempio la gente seguiva dei predicatori popolari e quindi che magari la gente dava donazioni eccezionali alla chiesa si parla molto in questo periodo si comincia a parlare dell'acquisto di indulgenze non erano molti decenni insomma che la chiesa aveva stabilito che era plausibile che esistesse un purgatorio e quindi questo generò una serie di raccolta di di donazioni di offerte volevo dire proprio per venire incontro a questa esigenza di evitare permanenza una lunga permanenza nel purgatorio di se stessi dopo la morte o dei propri cari la paura della morte ecco qui per esempio abbiamo un affresco molto bello che ho visto al camposanto monumentale di Pisa un affresco tra l'altro di buon amico Bufalmacco sì sì proprio lui proprio colui che è stato anche protagonista di alcune delle novelle più come dire divertenti comiche del De Camero Bufalmacco in realtà era un pittore valente era davvero una persona realmente esistita ma anche gli altri magari con dei soprannomi ma sono dei pittori una compagnia di pittori insomma che era ben presente nella Firenze del primo 300 aveva dipinto l'incontro tra vivi e morti dettaglio del trionfo della morte presso il camposanto monumentale di Pisa ma è solo un esempio ma ne abbiamo visti già altri nella pittura qui ad esempio abbiamo una rappresentazione dei cittadini di Tournei in Belgio che seppelliscono vittime di peste fatta da Pierre-Ardoutier proprio negli anni in cui si stava diffondendo quella pestinenza vediamo che cosa dicono alcuni nostri amici sulla chat di Youtube il mutamento climatico che si verificò intorno all'anno 1300 fu la diminuzione della temperatura le conseguenze di questa diminuzione l'abbiamo già detto furono disagio per la popolazione e una decimazione della popolazione che oltre a dover affrontare le carestie le pestilenze come stavamo dicendo appena adesso dovettero anche fronteggiare il freddo e questo per secoli e secoli da un punto di vista della diffusione della pestilenza è indubbio che la promiscuità o il fatto che ci fossero delle guerre tra per esempio genovesi e popolazioni più orientali fu il fattore scatenante della diffusione della pestilenza in Europa perché probabilmente la pestilenza viene da oriente ovviamente è chiaro che come abbiamo spiegato la pestilenza potè anche diffondersi così tanto a causa della sostanziale mancanza di igiene nell'Europa dell'epoca perché è con la mancanza di igiene che la pestilenza poteva diffondersi oltretutto le varie credenze per esempio che l'acqua potesse diffondere la peste e che quindi non ci si doveva lavare invece di frenare questa diffusione la aumentarono perché noi invece sappiamo che proprio il potersi lavare quindi aumentare l'igiene avrebbe temperato lo sviluppo di questa pestilenza e le conseguenze economiche adesso le vedremo perché ne parleremo nell'ultima parte del nostro incontro di oggi allora stavamo parlando quindi dei fragellanti delle confraternite di penitenti che aumentarono a dismisura in questo periodo e poi come stavamo dicendo anche delle persecuzioni degli ebrei ahimè purtroppo alcuni diffusero l'idea che la causa principale della diffusione della peste fosse anche dovuta agli ebrei che magari volevano infettare insomma gli altri è chiaro che gli ebrei erano all'interno della popolazione europea un gruppo un pochettino assestante un po' emarginato e quindi la maggior parte della popolazione vide proprio in loro cercò di trovare in loro il capo espiatorio cioè la causa insomma della diffusione della peste quello che avvenne per esempio qualche secolo dopo con gli untori nel 1300 avvenne contro i untori o presunti untori avvenne contro gli ebrei che appunto erano spesso tacciati di essere essi stessi dei diffusori insomma di questa peste o degli untori quali furono le conseguenze ecco qui anzitutto vediamo in questa cartina dell'Europa un quadro della diffusione della peste nera come vi stavo spiegando i primi luoghi in cui si diffuse questa pestilenza furono le sponde del Mar Nero in particolar modo guardando queste cartina soprattutto le sponde meridionali quelle dell'attuale Anatolia Turchia e poi piano piano le isole del Martirreno quindi per esempio la Corsica la Sardegna ma anche la Sicilia Marsiglia vi stavo parlando di Marsiglia e qui siamo un po' all'inizio della pestilenza ma poi come ben vedete potete vedere questa pestilenza si diffuse mano mano a partire proprio dall'Italia poi Francia Spagna Germania eccetera si diffuse in tutta quanta l'Europa anche nel nord d'Europa pur con una minore violenza una cosa interessante di cui vi volevo parlare a Siena avevano progettato di ingrandire il duomo della città facendo in modo che il duomo che noi adesso possiamo visitare il duomo di Siena bello bellissimo eccetera non fosse altro se non il transetto come una sorta di braccio orizzontale di dimensioni inferiori rispetto ad una navata enorme grandissima che avevano progettato i senesi i senesi incominciarono perfino a costruire la facciata di questo nuovo duomo che in questa ricostruzione troviamo nella parte a destra della slide poi però arrivò la pestilenza i senesi non furono più in grado di finanziare la continuazione di quest'opera per cui rimase solo questa facciata che infatti adesso viene chiamata il facciatone ed è questo uno degli esempi proprio una dimostrazione anche molto tangibile molto visibile ecco di come effettivamente la pestilenza portò ad una fase di interruzione di questa grande espansione di questa grande ricchezza che si era diffusa nell'Europa del tempo nelle città italiane del tempo ma le aree maggiormente coinvolte le abbiamo viste prima nella nella rappresentazione qua quindi si parte proprio dal sud dell'Europa vedi quindi sì senz'altro i Balcani ma come abbiamo spiegato prima poi andò a diffondersi molto purtroppo in Italia in Francia certamente in Spagna ma poi si diffusi anche verso la Germania la pestilenza che invece colpì in maniera decisamente inferiore le parti più settentrionali dell'Europa come ad esempio la Scozia la Scandinavia adesso andiamo a parlare invece delle condizioni di vita dopo la pestilenza quali conseguenze ci furono dopo la pestilenza ecco anzitutto i contadini non riuscivano più spesso a sopravvivere nelle campagne quindi si riversarono in città alla ricerca disperata di un lavoro anzitutto poi proprio nelle campagne i proprietari terrieri cercarono di compensare tutte le difficoltà economiche che c'erano state in precedenza vessando e opprimendo ancora maggiormente i contadini i contadini pertanto in Francia si ribellarono con le Jacquerie per primi nel 1358 poi si ribellarono in Inghilterra i contadini dell'Inghilterra all'inizio il re Riccardo II fu concedette a questi contadini alcuni diritti alcune protezioni così come era avvenuto anche in Francia ma poi ci fu una repressione dura e severa sia in Francia delle Jacquerie sia in Inghilterra da parte di Riccardo II che quindi prese alla fine la parte dei baroni possiamo dire quindi dei grandi signori dei grandi proprietari terrieri che repressero nel sangue questa rivolta dei contadini in Inghilterra così come era stata repressa nel sangue la rivolta delle Jacquerie in Francia la rivolta delle Jacquerie in Francia si chiama così perché in Francia molti contadini si chiamavano Jacques per il semplice fatto che era il nome più comune all'epoca Jacques significa Giacomo ora i proprietari terrieri come quasi in senso in segno di dispregio nei confronti di questi contadini li chiamavano tutti quanti Jacques anche se si chiamavano Jean Giovanni o François Francesco come a dire noi siamo i padroni a noi non interessa come vi chiamate vi chiamiamo tutti quanti Jacques ecco quindi che i contadini francesi si ribellarono queste rivolte queste ribellioni sono una sorta di dimostrazione le teorie se vogliamo poi le vedremo anche le teorie marxiste in base alle quali la storia è un continuo ciclo di lotte fra le classi sociali come una sorta di dimostrazione che è vero questo che spesso è l'economia che determina la storia le classi sociali sono in continua e perenne lotta fra di loro fino a quando non triunferà diciamo il proletariato questa ottica questo modo di vedere la storia è vera anche se in parte ad esempio proprio riguardo soprattutto al modo in cui marx immaginava che terminasse questo ciclo di lotte continue di lotte sociali continue ah sì come si chiama il bacillo responsabile della peste un virus che si chiama iersinia pestis e si diffonde soprattutto come veicolo in genere alcuni animali in particolar modo i topi perché il nostro amico voleva un po' dissipare questa sua curiosità sì ci sono tanti tipi di peste che noi conosciamo infatti c'è la peste bubonica e c'è la peste polmonare quindi ci sono tante tante pestilenze oltre alle due che ho già citato cioè la bubonica e la polmonare viene si conosce anche una peste setticemica quindi con delle febbri allora ritorniamo invece adesso a discutere di quello di cui stavamo parlando cioè delle rivolte dei contadini abbiamo detto che effettivamente questa lotta fra classe sociali vide come spesso in quei secoli e anche in alcuni secoli successivi il prevalere delle classi più alte più elevate si dovette aspettare la rivoluzione francese o altre rivoluzioni perché le classi inferiori riuscissero a prevalere su queste classi che erano state al potere per tantissimo tempo l'ultima delle rivolte di cui vorrei parlarvi però è la rivolta dei cionpi la rivolta dei cionpi invece è una rivolta che ha proprio come luoghi di diffusione alcune città italiane Perugia Siena e soprattutto Firenze i cionpi erano gli operai che lavoravano nell'arte della lana nelle mansioni più umili e lavoravano tantissime ore al giorno i loro padroni che erano borghesi ma dell'alta borghesia li costingevano a lavorare per decine di ore al giorno fino ad arrivare a 12 14 16 persino 18 ore di lavoro al giorno di fronte a questa situazione insostenibile i cionpi si ribellarono tra il 1351 e il 1378 anche in questo caso ci fu una una repressione molto dura e questi poveracci insomma furono anche proprio perseguitati quindi ricapitolando abbiamo le Jacquerie in Francia dove i contadini inferociti misero a rogo parecchi castelli e quindi tra l'altro si era nel pieno della guerra dei cent'anni fra Francia e Inghilterra poi dicevamo in Inghilterra quella rivolta dei contadini capeggiata da Watt Tyler e da John Ball Watt Tyler come vedete in questa raffigurazione alla fine viene ucciso da William Woodward proprio sotto gli occhi del re in quel caso in modo particolare soprattutto in quel caso ma non solo era stato proprio l'irrigidimento del regime fiscale cioè le maggiori imposizioni di tasse avvenute proprio in quei decenni a causare a causare queste rivolte le tasse erano aumentate in questo periodo proprio anche a causa della guerra che era la guerra tra Francia e Inghilterra la guerra dei cent'anni era una guerra in cui c'era bisogno davvero di molte risorse come in tutte le guerre ecco è il caso adesso di parlare dei cavalieri di ventura lo spopolamento ebbe come conseguenza anche l'impossibilità di avere delle milizie cittadine dei cavalieri feudali permanenti e allora anche per contrastare delle popolazioni che premevano ai confini si può dire dell'Europa cristiana ci si affidò a questi cavalieri di ventura a queste compagnie di ventura insomma si trattava di soldati di mestiere che davano il loro servizio militare servizio militare in cambio di un salario in cambio di un compenso in denaro si tratta quindi di una cosa che aumentò sempre di più in questo periodo tra l'altro questo permise ad alcuni condottieri particolarmente abili ma anche piuttosto violenti di emergere il caso di appunto di Muzio attendo lo sforza ad esempio oppure di Braccio da Montone tra l'altro questi mercenari ma questa è una cosa di cui parleremo anche per i secoli successivi non combattevano per un ideale per difendere la loro città per proteggere la propria famiglia ma combattevano solo ed esclusivamente per soldi e quindi spesso quando si trovavano gli uni contro gli altri non avevano nessuna intenzione di decimarsi cioè di dar la vita insomma in questa guerra per vincere la guerra e quindi spesso si mettevano d'accordo fra di loro per arrivare a un compromesso e continuare a vivere è chiaro quindi che questo fenomeno delle compagnie di ventura con l'andare del tempo aumentò sempre di più e si diffuse e anche ci furono delle conseguenze sempre più negative ad esempio conveniva a questi soldati di ventura a questi capitani che ci fosse un continuo stato di tensione o bellico di guerra e quindi anche se c'erano momenti di pace loro cercavano spesso di provocare la guerra perché questo avrebbe permesso loro di continuare ad accumulare compensi denaro soldi tra l'altro alcuni di essi ebbero talmente tanta fortuna che alla fine diventarono signori e questo lo vedremo quando parleremo nella nascita della signoria in Italia c'è da dire una cosa però per fortuna verso la fine del secolo si crearono le condizioni per una certa ripresa e dobbiamo dire che comunque in questo periodo l'arte la letteratura non vennero meno anzi addirittura sappiamo che il 300 fu un'epoca fulgida dal punto di vista della letteratura esordita con le opere straordinarie di Dante Alighieri proseguì con quelle di Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio ma anche nell'arte si ebbe uno sviluppo eccezionale proprio la volta prossima parleremo di Simone Martini Ambrogio Lorenzetti qui vedete invece un dipinto di Masolino da Panicale quindi la scuola senese quella di Simone Martini e di Lorenzetti la scuola fiorentina dopo gli esordi di Cimabue e Giotto si sviluppò nel senso proprio ad esempio della ricerca della sperimentazione sulla prospettiva e anche la filologia nacque e rinacque l'interesse per i classici greci e latini verso la seconda metà del del trecento e il il ceto dei borghesi quindi possiamo dire dei mercanti dei capitalisti che spesso si uniscono i loro intenti con la nobiltà feudale trovò modo di arricchirsi sempre di più soprattutto ovviamente verso la fine del trecento quando nacquero anche del possiamo dire degli istituti economici importanti come la partita doppia la lettera di cambio e quindi non possiamo definire il trecento solo ed esclusivamente un'epoca di crisi anzi si crearono i presupposti verso una nuova prosperità verso un periodo di grande espansione e di grande sviluppo in zone come l'Olanda dove i commerci proliferarono tantissimo c'erano dei porti soprattutto in Olanda e anche in Inghilterra ma anche in Italia da cui partivano sempre più navi e poi ripresero il lavoro dei campi ma anche altre attività nelle campagne come diciamo delle manifatture e poi ancora la lavorazione dei metalli della carta la lana la canapa il lino la seta il vetro tutta una serie quindi di attività economiche che ripresero dopo la metà del 300 sempre di più sempre di più fino a portare come vi stavo spiegando ad una nuova fase di grande sviluppo anzi addirittura alcuni sostengono che proprio il fatto che ci sia stato un brusco calo demografico quella decimazione della popolazione causata dalla peste creò i presupposti per un nuovo sviluppo della società e poi dal sviluppo della società in modo parallelo quasi potremmo dire ci fu uno sviluppo dell'arte della cultura della letteratura fino ad arrivare appunto a quello che noi studieremo quando parleremo del 400 si purtroppo non solo non solo gli ebrei ma anche le donne furono spesso prese come capro espiatorio di alcuni di questi disastri che erano accaduti in questo 300 quindi le carestie le pestilenze e anche per la mentalità dell'epoca quando una donna si dedicava tra virgolette alla magia era ritenuta una strega da perseguitare e da bruciare sul rogo mentre invece quando lo faceva un uomo poteva essere un mago che magari avrebbe anche una persona quasi quasi rispettabile è chiaro quindi questo quello che stai scrivendo tu senz'altro è molto vero sì questo fa parte di tutto quel discorso di cui abbiamo parlato prima abbiamo parlato dei flagellanti quindi di coloro che ritenevano che bisognasse fare penitenza fustigandosi fustigando se stessi quindi con azioni di sostanziale masochismo lo facevano insieme però lo facevano in confraternite lo facevano andando in processione nelle città perché fosse pubblica questa esternazione di pubblica penitenza insomma ecco quindi questo è sicuramente il periodo di tutte queste manifestazioni possiamo dire di irrazionalità ma è anche il periodo in cui si creano i presupposti per una grande rinascita del pensiero della cultura della letteratura dell'amore per l'arte che poi sarà importantissimo nel periodo successivo del 400 e del 500 chain